Cari fratelli e care sorelle, ancora ripieni della gioia vissuta nella grande festa della Divina Misericordia, ci apprestiamo a vivere una nuova domenica nel nome del Dio Uno e Trino, meditando il Vangelo appena ascoltato e che quest'oggi ci propone la vicenda dei discepoli di Emmaus. Un racconto che diviene estremamente attuale se si considera che nel mondo di oggi tanti cristiani come questi due discepoli si trovano a percorrere un cammino di fede sempre più precario, sempre più in solitaria, in uno stato di perenne tristezza, di profonda delusione e di grande sbigottimento ed incredulità innanzi ad un mondo che, allontanandosi sempre più da Dio, è caduto in un baratro di decadenza morale e spirituale. Ecco dunque la chiamata dei figli della Nuova Gerusalemme, che con la preghiera viva innalzano continuamente inni di lode al cielo e sull'esempio del Figlio di Dio, risorto e riapparso in forma nuova ai discepoli per ridare loro forza e speranza, vengono inviati dal Padre in soccorso di molti figli e figlie sulla strada di Emmaus di questo mondo, per riportare Cristo a tante anime indifferenti ed apatiche che l'hanno perduto, per riportare Cristo e la verità assoluta nel cuore di tutte quelle anime afflitte e deluse che con tristezza dicono speravamo fosse lui a liberare Israele e per riportare Cristo a tutti gli uomini e donne di buona volontà che non si danno per vinti e con fede, con l'aiuto di Gesù, cogliendo il segno dei tempi, vogliono far rotolare via la pietra innanzi al buio sepolcro nel quale il mondo vorrebbe rinchiuderli, mettendo piede in questa terra d'amore, risorgendo alla vera vita, brillando di luce nuova e vincendo la morte, l'ultima ad essere sconfitta per l'eternità. Ecco il tempo di misericordia che Dio nel suo infinito amore per l'umanità dona a tutti coloro che vogliono prendere la sua mano ed essere salvati e messi al sicuro nel granaio di Dio, in questo castello delle anime, prima che la pula in questi tempi duri e difficili venga bruciata dalla giustizia del Padre che si abbatterà nel mondo. Ecco il rifugio sicuro distante sette miglia da Gerusalemme, un numero sacro molto presente nel libro dell'Apocalisse, che sta ad indicare la perfezione e la completezza di Dio, che in questo tempo si manifesta tramite l'azione della Chiesa Cristiana Universale della Nuova Gerusalemme, voluta dal cielo e divenuta per volere del Padre la vera casa di tutti i cristiani. E tramite l'operato ed il sacrificio di tanti figli, con il loro apostolato e con il loro esempio quotidiano, avanza nell'arduo compito di difendere la fede, annunciando a tutti coloro che ancora cercano tra i morti colui che è vivo, che devono volgere lo sguardo altrove, perché l'attesa è finita e Dio è tornato, non come l'uomo pensava o voleva, ma come la volontà di Dio ha deciso. Dice Sor Faustina Kowalska nel suo diario, Gesù mi fece conoscere quanto gli sia cara un'anima che vive in conformità al divino volere. Con ciò tributa a Dio la più grande gloria. La tristezza non abiterà mai in una persona che pone sopra ogni cosa la divina volontà. Ecco la sostanziale differenza che diventerà sempre più evidente tra chi rifiutando la volontà di Dio negherà la natura divina di questo luogo, vedendo Gesù come uno straniero, peccando contro lo Spirito Santo e brancolando nel buio più fitto. E chi invece, rivestito della regalità di Cristo, abbraccia la volontà celeste e per questo è veramente seduto alla tavola del Signore e gli arde il cuore in petto mentre il pane viene spezzato, mentre le scritture vengono spiegate alla luce della volontà divina e da Dio sono benedetti. Ecco la gioia che sempre più deve traboccare nei cuori di chi oggi ha questa piena consapevolezza di aver riconosciuto e visto il Signore con gli occhi dello Spirito. Ecco la pace che deve regnare nei cuori di tutti coloro che già sono stati chiamati da Dio a far parte del suo piano di amore e di redenzione. Ecco la sincerità che bisogna manifestare nell'annunciare a tutti senza reticenza e vergogna il compimento della promessa del ritorno del Signore, affinché tutti, ripieni dell'amore totale di Dio, possono confluire nel cuore pulsante di Cristo e Maria e gridare al mondo senza indugio, davvero il Signore risorto, davvero il Signore qui è tornato e regnerà per sempre nei secoli dei secoli. Amen. Dio Padre Onnipotente benedica noi tutti nel suo santo nome di Padre, di Figlio e di Spirito Santo.